Noi facciamo tutto, balliamo, cantiamo e recitiamo. Adesso gli facciamo vedere una pellicola di quando facciamo la vetrina vivente a Viale Giugio Scensare. Perché facciamo anche gli indossatori. Siamo la spina, per cortesia un po' meno luce. Grazie. Grazie. Grazie, grazie, potete accomodarvi? Vi scriveremo qua le tue cose. Lei è veramente una segretaria molto simpatica. Noi possiamo fare tutto. Non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto niente. Sì, non abbiamo fatto niente. Noi possiamo fare tutto. Noi possiamo fare tutto. Non abbiamo fatto niente.